abbiamo fatto un viaggio interessantissimo insieme con luca con i santi questo viaggio è cominciato qui proprio in questa stanza della postulazione e questa stanza negli armadi contiene un tesoro vediamo che c'è dentro questi armadi qui sono tanti libri le persone che sono presentate alla chiesa per diventare sante il libro contiene una biografia della sua vita contiene le sue virtù contiene le testimonianze delle persone che l'hanno conosciuto o chi hanno sentito parlare su di lui contiene i documenti della sua propria vita e nel contesto sociale tutto questo si presenta alla chiesa e la chiesa decide se può diventare santo allora io ti ringrazio molto padre pasquale per averci aperto e fatto conoscere questa stanza meravigliosa grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti